Cos'è l'implatologia? L'implatologia applicata nel mondo dentale è la sostituzione di uno, di più o di tutti i denti della bocca con degli impianti. Gli impianti sono delle sorte di viti, quindi sono delle strutture che sostituiscono in toto un dente perduto. Quindi sostituiscono sia la radice e poi la corona del dente. Quindi si possono usare in tutte le situazioni, quindi dalla mancanza.